Ben trovati i latigi della mobilità, questa sera la via Crucis al Colosseo proseguiranno sino alle 23.30 le chiusure e le deviazioni, sono interessate via Cavour, via De Fori Imperiali, via Celio Vibenna, via degli Annibaldi, modificato il trasporto pubblico, domani dalle 15 chiusure e limitazioni alla viabilità a San Pietro dove sarà celebrata la veglia in attesa della messa di Pasqua di domenica e domenica oltre alla celebrazione in Vaticano con le limitazioni nelle strade a ridosso del colonnato e di via della conciliazione tra le 7.30 alle 13 per la sfilata del reparto d'onore dei carabinieri dalla caserma di via dalla chiesa sino a piazza San Pietro, possibili rallentamenti o brevi stop per 10 linee di bus e tutto dal Tg della mobilità.